Siamo a piedi della torretta di Caprona il via delle nave Sulla strada sono state prontate, sono state prontate Si vede già presentati vicino a una strada di nave alcune sono state datate e sono state messe in sicurezza anche dei cavalli che era vicino al bosco che mi rompono il nord e è stato attraversato dal fuoco